Ecco, prima degli anticipi di domani, pochi secondi per ricordare che domani sabato alle 18.30 nella chiesa di Sant'Anna in San Lorenzo sarà celebrata una messa nel ricordo di tutti gli ex allievi dell'Orfanatrofio I, vedete questa bellissima foto di ragazzini di allora, un'istituzione voluta dal grande sindaco Alfonso Menna e diventata poi un pezzo di storia con la scuola musicale, quelle di calzoleria, meccanica, tipografia, ceramica e falegnameria, ecco vedete il grande sindaco del passato, Alfonso Menna. Una bella iniziativa, una iniziativa nobile curata da Vincenzo Sicca e da Nello Siniscalchi, complimenti.